ma prima di fare questo il nostro rito è che forza la musica applauso grande e chiamiamo subito il leader Matteo, Matteo, dove è Matteo? come band 883, allora ragazzi ciao come state ragazzi? benvenuto, tutto bene grazie, buonasera a tutti ci tenevo tantissimo alla vostra presenza allora, progetti imminenti, mi dicevi tante tante cose sì, progetti imminenti, stiamo preparando il tour estivo ne veniamo dal San Valentino di ieri sera, ci siamo divertiti tantissimo veniti qualche settimana fa forse è vero, è passato i giorni è bella, ci hai innamorato, il tempo si ferma, che puoi fare? succede, succede in realtà stiamo progettando appunto il tour estivo partiremo da Tivoli, quella che è la nostra città perché lo diciamo, insomma, siamo di Tivoli, tutti quanti e da lì partirà dal Bricks Pub del mio amico Daniele Mattoni che ospiterà la prima data e poi andiamo avanti verremo tutti ma adesso noi vogliamo ballare e cantare con Nord Sud Ovest Est e tutto il midli degli 883 prego grazie ma perché sei andata via? mi soffrezza e la notte perché non mi hai detto che non eri mia non lo so sarà il vento o sarai tu la voce che risponde mi è perché da galoppa più che puoi con i bambini per mare che di strada ce n'è ancora tanta, sai sì lo so vedo una cantina che mi potrà togliere sete e polvere lancio qualche peso al cantinero che non parla mai accanto a me c'è un gringo non straniero mi chiede man dove vai il nostro Dora è stessa e forse quel che cerco neanche c'è il nostro Dora è stessa starò cercando lei o forse me come mai? ma chi sarai per fare questo a me notti intere ad aspettarti ad aspettare te dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui qui seduto in una stanza pregando per un sì c'è un tempo per i baci sperati desiderati tra i banchi della prima B occhiali grandi sempre gli stessi un po' troppo spessi per piacere ad una così per piacere ad una così nell'ora di lettere guardando la riflette sulle domande tranello della prof non cascarci amore no c'è un tempo per i primi sospiri desinsicuri finché l'imbarazzo va via col sincronismo dei movimenti col gesti lenti conosciuti solo in teoria come nelle favole fin sopra alle nuvole convinti che quell'istante durerà dall'illernità lo strano percorso di ognuno di noi che neanche un grande libro un grande film potrebbero descrivere mai per quanto è complicato e imprevedibile solita notte da lupi nel bronze nel locale stanno suonando blues e gli songs lo skin di Wigui al bancone del bar pieni di whisky e margaritas tutto ad un tratto la porta fa il guercio entra di corsa con una novità di passi di cura si mormora che i cannoni hanno fatto hanno ucciso l'uomo ragno chi sia stato non si sa forse quelli della mala forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno non si sa neanche perché avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè la cover band 883 grazie a tutti straordinari salutiamo anche il fan club della cover band grazie per essere tornati un saluto affettuosissimo ai nostri fans che ci seguono sempre ciao ragazzi ciao ragazzi a più tardi